mia interpretazione oggi all'appetto di figlia e si chiedeva come figlia perché è stato ammazzato e l'hai dato un esempio fuggito di come perché è pesante, era una ragazza di 15 anni e si trova senza papà ed è rimasta un senso rinco in più perché poi è diventato un simbolo della lotta per l'affermazione di questi valori della vita, di questi visionari, giustizia, legalità, la legalità, solidarietà. Ecco, Sabina Rossa ha un altro prezzo a quello di avere assieme a Doris Lomore, a Nicodemo Oliveira e ad altri deputati calabresi di avere sostenuto la legge Lazzate, anzi insieme a Nicodemo Oliveira e hanno depositato un disegno di rettifica perché la legge Lazzate sono state introdotte alcune modifiche non riconducibili al testo Lazzate che sono agevolmente eliminati. Sabina Rossa è accanto al centro studio Lazzate e conduce volentamente agli altri due regole questa battaglia, soprattutto eccellenza. Sapete che hanno fatto il codice antimafia e distrettamente hanno dimenticato questo legislatore, Dottore Biancone, sapete la legge Lazzate ed esaurisco l'argomento, è lì non un paradosso normativo, cioè io sono vogliato speciale e il mio voto non lo posso dare, un voto non lo posso dare, però se ne raccolgo più di uno attraverso l'attività antipropagante dell'attività, questo mi è consentito.